In Excel abbiamo ben quattro formati con cui possiamo salvare il file, ma qual è il più efficiente da utilizzare? Allora c'è la versione XLSX, cartale di lavoro, Excel 97 2003, quindi questa estensione va bene per le vecchie versioni di Office. Invece se andiamo con quelle nuove, possiamo utilizzare la cartale di lavoro di Excel, che è lo standard con cui Excel va a salvare i nostri file. Qui si genera un file XML sotto e quindi ha una certa velocità, perché scrive i dati in un certo modo. Poi abbiamo l'XLSM che è uguale, identico all'XLSX, però ci permette di eseguire anche dello script. Questi due formati sono utili solo se utilizzate l'Excel per essere letto da altri file Excel. In questo caso la lettura dei dati sarà più veloce. Per tutti gli altri casi conviene usare l'estensione XLSB, ovvero cartale di lavoro binaria, perché il file viene salvato come i numeretti che vedete qua dietro, in binario. Quindi il file risulterà maggiormente compresso e quando andrete ad utilizzare il file sarà più veloce delle altre estensioni.